Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati sul canale 17 di Fano TV dove c'è la rassegna stampa alle 7.30 di ogni mattina e allora siamo qui per sfogliare tra poco i giornali e vedere quali sono le notizie più importanti del giorno e allora prima però abbiamo un po' di cose da fare intanto fare gli auguri a tutti i papà perché oggi è il 19 di marzo e dunque la Chiesa Cattolica ricorda il papà di tutti che è San Giuseppe San Giuseppe lavoratore che è lo sposo di Maria, il padre putativo di Gesù e quindi salutiamo tutti i papà che ci stanno seguendo in questo momento in diretta il sole è sorto alle 6.15, tramonterà di 18 e 18 minuti e vediamo subito il tempo perché ci sono delle novità anche dal punto di vista meteorologico oggi non è una gran giornata dal punto di vista meteo perché ci sono piogge che continueranno a cadere per tutta la giornata con nevicate anche intorno ai 600-700 metri nel settore settentrionale mentre più a sud delle Marche intorno ai 900 millimetri le temperature sono in diminuzione nei valori massimi soltanto nella serata avremo un po' di schiarite ma domani martedì ancora cattivo tempo soprattutto sulla costa tanta pioggia poi neve, neve attorno ai 500 metri poi in salita nel pomeriggio attorno ai 900 mille temperature ancora in diminuzione insomma forti possibilità che ancora ci sia qualche fiocchettino di neve addirittura per la giornata di mercoledì insomma ci sono queste possibilità e quindi staremo a vedere allora ci sono delle cose da dire intanto la rassegna stampa la faremo molto veloce perché ci sono dei collegamenti in diretta abbiamo il Papa abbiamo stravolto un po' questa mattina il palinsesto di Fano TV anche perché stiamo valutando l'ipotesi di farvi vedere le immagini se ce la facciamo dalla costa della bomba che questa mattina dovrebbe essere fatta esplodere a largo della costa di Fano questa bomba di cui si parla ormai da diversi giorni ma andiamo con ordine e andiamo subito a vedere adesso i giornali cominciamo innanzitutto dalla fotografia che il nostro reporter di strada che è giù al porto ci ha mandato questi sono i mezzi della Marina Militare vedete i reparti subacquei del nucleo che si stanno organizzando sono già lì pronti per andare in mare e appunto tentare di far brillare questo ordigno ma i titoli gli infermieri di Marche Nord siamo sul Corriere Adriatico si scusano per il caso del paziente morto in ospedale a Pesero senza che nessuno avvisasse la famiglia e questo caso lascia strascichi inevitabili tra cui un velenoso scarica barile ieri sul caso è intervenuto il presidente dell'ordine degli infermieri Biagiotti non si può dare la colpa agli infermieri per quanto è successo ci ho detto però chiediamo scusa alla famiglia dell'anziano poi a centro pagina invece il Fano spaventa la San Benedettese ma è 1-1 in Lega Pro Granata avanti con l'ex rosso-blu Fioretti pari di Gelonese dopo una gara tirata in Serie D invece la Visse non va oltre il pari altra occasione persa il clandestino invece occupa la casa inagibile le botte per i poliziotti un fatto avvenuto nella Maceratese dove un nigeriano clandestino abusava o meglio occupava abusivamente questo appartamento a due passi dal centro del capoluogo insomma hanno fatto questo blitz i poliziotti ma se la sono insomma hanno preso anche qualche botta la VL è sconfitta a Brindisi 93-83 c'è da soffrire la VL ancora ultima in classifica sulla bomba l'ora X Fano scatta oggi alle ore 9 entrano in azioni subacquee incursori della Marina Militare che hanno portato l'ordigno a 2 miglia dalla costa con l'esplosione prevista anche una colonna d'acqua di 40 metri dunque visibile probabilmente anche dalla costa un intervento di 2 ore però c'è il rischio che tutta questa operazione salti a causa del maltempo tra l'altro per quanto riguarda i pesci di cui avevamo parlato in qualche edizione del telegiornale hanno previsto tutto anche la salvaguardia dei pesci quindi una microcarica servirà per allontanare prima della forte esplosione quella vera tutti i pesci da lì attorno il pattugliamento di guardia costiera e finanza la capitaneria di Porto ribadisce di vieti di immersione e navigazione il Movimento 5 Stelle di Fano denuncia drastici tagli ai controlli della polstrada riduzione del 30% dal 30 al 44% dopo l'accorpamento della sede fanese con la sezione autostradale la carenza è grave in considerazione della prossima apertura di nuovi grandi strade poi il teatro dialettare stasera si ride con il Guitto Guitto che è pronto a fare questa sera il suo debutto dopo il piccolo imprevisto capitato ad uno degli attori che ha costretto la compagnia a rinviare le date in calendario e passate le varie emergenze che hanno colpito la città di Fano compresa appunto la bomba eccetera ecco ci sarà questa sera l'appuntamento è giunto il momento di dare spazio alla risata con Gina Balà andiamo a ballare in pista da 40 anni commedia in quattro quadri di Alice e Stefano Guidi liberamente tratta dalle commedie di William Shakespeare andiamo adesso invece sull'altra pagina quella del Corriere noi chiediamo scusa alla famiglia ma gli infermieri non hanno colpe Biagiotti presidente dell'ordine sul nonno morto da giorni in ospedale non esistono procedure definitive definite la nipote dice niente voglia di rivalza ma certe situazioni non devono accadere mai più adesso invece la pagina di Pesaro del Corriere dove si parla di tecniche mai adoperate per salvare il San Bartolo sopra il luogo del professor Pasqualini della Politecnica delle Marche nei luoghi del Sesto l'esperto ribadisce la fragilità della falesia e problemi di stabilità dovremo lavorare sodo per insomma fare in modo che non ci siano più frane andiamo invece avanti con l'altra pagina di Pesaro sulla stra panoramica di ieri purtroppo non c'è stata molta gente anche perché ieri insomma pioveva la stra panoramica dunque sotto la pioggia solo per gli irriducibili la manifestazione del parco tornerà il prossimo 15 aprile mentre strada tra i due porti scatta la sosta vietata partono i lavori domani previsto un primo sopralluogo andiamo ancora sulla pagina del Corriere Adriatico dove ci sono le ruspe in Via La Marmora e l'invito a chiudere le finestre l'avviso è infatti del Comune di Pesaro oggi si abbatte l'edificio che lascerà posto alla scuola la scuola nuova di Pantano scatta dunque la demolizione nel parco di Via La Marmora il Comune invita i residenti a tenere tutte le finestre chiuse infatti a partire da oggi inizieranno appunto questi lavori la pagina di Urbino invece l'identità scavata nei volti Sgarbi Benedice Martinelli inaugurata nelle sale del Castellare la mostra delle grandi opere del pittore toscano Valcesano efficientamento energetico con restyling della palestra il progetto finanziato dal bando regionale prevede un investimento di 100 mila euro e poi da Senigallia frasi sessiste segnalate in procura nel mirino il commento del presidente degli imprenditori e le critiche alle modelle curvi la consigliera provinciale delle pare opportunità Fazio dice il comportamento è inaccettabile e poi il carnevale al foro annonario niente carri per il rischio maltempo la pagina sportiva del Corriere Adriatico invece è tutta per Fano Samb che battaglia apre l'ex rosso-blu Fioretti pareggia gelonese il combattuto derby marchigiano di C finisce in pareggio Scintilla in campo è anche fuori Capuano dice annullato un gol regolare a Conson la fermata invece KO col Pordenone 2-0 la VL siamo alle pagine sportive quindi il basket la VL regala un tempo Pesaro lascia più di 50 punti a Brindisi nei primi due quarti poi reagisce ma è troppo tardi Capodorlando perde in casa ma lo sprint salvezza resta difficile e adesso l'esame Trento risultato finale Epi Casa 93 VL Pesaro 83 mentre per quanto riguarda la palla a volo la Lube chiude il conto ora sotto con Modena i campioni d'Italia volano a Piacenza e si qualificano in anticipo alla semifinale playoff Wix Piacenza 2 Lube Civitanova 3 questo è il risultato finale apriamo adesso invece il Carlino di Pesaro la mattina della bomba questo è il titolo con la fotografia dell'ordigno anche se non è quello di Fano perché vedete è completamente ripulito scrostato quindi è un altro però tanto per far capire la bomba è la stessa sarà fatto brillare in mare l'ordigno che ha bloccato Fano i palombari prevedono un grattacielo d'acqua e poi sul PD che è ancora frastornato dalla botta presa dopo il 4 di marzo dalle politiche l'ex senatrice Camilla Fabri adesso accusa la risoluzione di Banca Marche decisiva nella sconfitta elettorale messo in dubbio risparmiò dei marchigiani così siamo andati a picco e attacca anche il sindaco di Pesaro Ricci l'ex senatrice dice sbagliato non esserci all'assemblea provinciale e poi questa fotografia è un incidente a Gallo di Petriano sfonda la profumeria con l'auto impazzita lei illesa però i danni al locale sono ingenti entriamo nelle pagine interne allora l'ospite non paga e le suore chiamano la polizia è una donna di 40 anni che è stata allontanata dall'istituto di Viale 11 febbraio a Pesaro se ne è andata poi in taxi è un duello è una diatriba che va avanti ormai da un mese e più la signora è stata invitata a saldare il conto alle suore oppure di lasciare la stanza lei dice e ha sempre detto no io resto insomma alla fine è arrivata ieri sera l'altra sera la volante della polizia e poi la donna appunto se ne è andata Valentino Rossi invece è felice sul podio per questa questa vittoria poi il team è anche per il team VR46 terzo il dottore dopo una gara equilibrata Tavuglia esulta per Bugnaia in Moto2 insomma è andata bene Petrucci Quinto Morbidelli dodicesimo Pecco Pecco Bagnaia dominatore nella Moto2 per il team VR46 Sky bene Luca Marini questa è la pagina interna del resto del Carlino ma alle 11 occhi puntati verso il largo di Fano per vedere questo grattacielo d'acqua nel caso in cui si riuscisse a far brillare questa bomba ma ripetiamo tutto dipende dalle condizioni meteomarine alle 11 però questa bomba potrebbe essere un ricordo la marina militare vorrebbe ma un po' tutti vorrebbe farla brillare questa mattina e chiudere questo capitolo ma il meteo potrebbe appunto interferire e come dicevamo la bomba potrebbe sollevare una massa d'acqua alta fino a 40 metri dal livello del mare addirittura qui siamo a 40 metri si tenterà di farla deflagrare a metà profondità cioè quindi sollevarla dal fondale portarla quasi fino alla superficie e poi farla brillare però questa operazione potrebbe come dicevamo non essere proprio fatta in questo modo proprio perché ci sono le onde e quindi non sarebbe poi non sarebbero in sicurezza tutti quelli che ci lavorano attorno e questi sono un momento per esempio dalla conferenza stampa e questo è un momento dell'operazione di recupero della bomba per quanto riguarda lo sport dal Carlino Fano un buon punto formato derby 1 a 1 il risultato finale il match Fioretti mette a segno il gol Granate in un incontro ricco di spunti con la San Benedettese mentre in serie D Vis Pesero San Nicolò 0 a 0 occasione sfumata pari indigesto solo un punto per il Matelica ma il Albenelli manca la vittoria Riolfo a rischio esonero e a proposito di bombe guardate questo titolo che ci fa un po' sorridere ormai Tolentino tira bombe sull'Alma sull'Alma intese come Fano Atletico Alma in casa contro il Tolentino però fa ridere questo titolo nel senso che ormai qui si parla solo di bombe e dunque allora a questo punto direi che possiamo fermarci ci fermiamo qua riteniamo un attimo in stand by questa diretta dallo studio per quanto riguarda la mattinata continuate a seguirci perché se troveremo una posizione ottimale per la nostra troupe cercheremo di mandarvi di trasmettervi le immagini in diretta di questo ordigno che verrà fatto spero brillare in mare questa mattina quindi restate con noi però questa mattina la nostra scaletta subirà del nostro palinsesto un po' di modifiche perché intanto la messa la santa messa andrà in onda alle 8 quindi tra poco dopo la replica di questa rassegna stampa e poi riandrà in onda intorno alle 8 e 40 alle 9 invece c'è un collegamento con il Papa Papa Francesco per una riunione presinodale dei giovani un incontro che terminerà intorno alle 10 e 30 quindi alle 10 e 30 vedremo se raccontarvi farvi vedere qualcosa in diretta e poi di nuovo il collegamento alle 11 con Papa Francesco ora tutto questo questa è la scaletta questo è il palinsesto però poi potrebbe essere modificata perché se riusciamo a farvi vedere appunto queste immagini noi ci inseriremo all'interno di queste cose qua insomma 338 496 8250 questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa e a più tardi grazie a tutti